Marce, un anno prima che ho nascito io si insomma un gran banale di febottina e me mi sono febottina Potemmo farlo? Oh, è il fatto io E' il fatto che non si insomma un banale di cagli, se non è tanto male a parte Prego, prego, potresti stare, porto, porto, c'è, sta proprio Ma che cosa dobbiamo questa sua visita? E' una visita di cortesia ma come vede è una visita anche istituzionale Ah certo, io amo anche Sì, certo, vedi tu che puoi fare Marce, 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 vai avanti tu me stai furiando a me c'è la testa, ma la sento, 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 ma la sento Ma no, no, no Sì, sì, va bene, va bene Sì, sì, mezzo, sì Sì, sì, si accomoda, si accomoda così E allora dicevamo, cos'è che dobbiamo questa sua visita? Eh, forse voi non lo sapete Ma noi siamo alleati della Germania E la Germania ha richiarato e scende in qua E se la Germania la mangia su me, non mangia più c'è già E ci sentiamo, ci sentiamo per uno altro Perché essendo noi alleati Non è escluso che dobbiamo sostenere lo sforzo militare della Germania Ma che mi sta volendo dire, potestà? Cavolo, c'è chi ti ha, non torna a cominciare una guerra Eh, possibile, non è testo Sì, non è testo Ma che volete, non vuoi dire, non sape, guarda, io devo andare sulla franza rosetta Che ci guardate? Ma io, lo devo dire Sono passato qui perché devo attesare che non c'è questa possibilità che noi ci andiamo giù Ah, sì? Io, signor Platone, da parte di voi, sta Comande Persegriere con un crudo dovere in prima armata Persegriere con un santo leggete con un regimento Allora, andiamo allì Domino Sì Se mi accontate Domino, si asentate Non batte nulla Non batte nulla Non si asentate Lei di chi sta state tranquilla Perché voi sapete bene Che comunque ci vanno quegli altri Cioè, dire, i ragazzi da 18 fino a 45 anni Lei, questa età, l'ha superata Quindi, un problema, non si può Ma io, sapevi che ci dico, signor Potestà Dimmi Ma se è possibile Mi suportano Che mi ha detto Quanto sicuramente da me Sì Signora, ragazzi Questa possibilità Stai ragazzi, signore Non c'è niente Mi facessi completare un aggiornamento Di chi è una cosa seria Quindi, qua, problemi di questo giorno Non ce ne sono più I problemi possono essere altri di natura finanziaria Perché il governo ha già emanato delle direttive Che io vi vengo a spiegare Che vedono una serie di regolamentazioni Da punto di vista pubblico Sì, sì, Potestà Ma io, Iaia, per me le vendate tutti questi chiacchi Che il cane stai capendo Ma che vuole dire? Ma che vuole dire, ragazzi Vuole dire che i prossimi mesi Amare il cane alla santa Eeeh, che grano mi dà E' da questa cosa che mi ha fatto fino a ora Esatto Domnino, poi è uno preciso Vai, vai, sciamonino Ma invece... Le dicevo Già il dulce dato delle disposizioni Meno no A partire da domani Ogni componente del nucleo Di ogni famiglia Avrà una tessera Che gli consentirà Di prendere 150 grammi di pane Ciascuno Eeeh Oioio 150 grammi di pane Oioio Quindi da poi mi servono i documenti E in ogni caso Chi produce grano in più Come voi Se non ricordo male Noi abbiamo già creato Un centro per l'ammasso Cioè dire il di più Va portato a piazza Santa Caterina Eeeh Abbiamo organizzato In maniera tale che si accumula E si può distribuire alle famiglie Che ne hanno di più bisogno Chiaro? Ah certo che con te sta tunna Ne stanno facendo tutti ricchi Ah proprio Oh mamma Vuoi passare un minuetetto? Sì Vieni 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 Io tante cose non ne ho capito Però Stiamo a fare Casi Un mio signorino che muore Ne avevo Io ora posso andare da parla Che a mia figlia non so che Aveva bisogno Tanto c'è mio marito Se aveva bisogno cosa Sabe di poterci Arrivederci Un fondo Un fondo Eeeh 2 minuti Guarda Come ci disse Mi servono i documenti Di tutti I concorrenti della famiglia Se non ci sono picchia Quindi dobbiamo organizzare Tutti gli incartamenti Per distribuire Se deve servo parte Sì 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 Perché io lo aspetto Posso 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 Si 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 essere indiscreto, con una bella donna come lei, è un peccato di Dio. Ah, appunto, che più carico magari io. Non vuole dire, appunto. Ma che c'è Dio? Che io volevo dire che non sono una vera Monica. La vera Monica, che non è solo una via cattiva, io, che andavo qui e lasciavo un'io, e se convincio che io sono una Monica, e così io non esco di Monica, io non volevo meritare, esso io. Ah, e appunto lei non è in Monica. Non giugno moneta. Faccia moneta, può fare con te la mia sorella, ma la cattiva. Sì, ma è una buona notizia, eh? Le fatte le loro indirizioni. Eh, mi dici. Dica. Dico che non è moneta. Senti, io non voglio essere. Ma io sogno solito. Signor, signor, io. Sì, 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 sì. Hai signor, mangiato solo. Ma lei? Si offende, signor, stasi tranquillo a cena. Ma vabbè, sì, sì, sì. E allora facciamo una? Ah, no, aspetta. Prima. Allora, non ci facciamo una salinetta, ma sono magliata d'inna. Eh, signore, per la macchina. E da che cosa faccia? Ne scissi, ci muoia proprio. No, 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 no. E ci manca, ci manca, ci stavus, per noi apri ausi poi, No. Che è sempre come diciamo niente? Per favore. Ci manca, no. E c'è una cosa, dobbiamo essere riservati. Va bene. Sì. Sì. Io, se te menzio ha passato io. Eh, ok. Le scine sulle, se non ci vanno andando. Va bene. Io passo cane la crozza. Ah. Gli ha la rotta. No. Lei è su un brusano, da la rotta, da la cosa, a usare la rozza. Va bene. E ne nemmeno, a usare la rozza. Va bene. 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 A posta, a posta. Vediamo se il domino, cosa vuote è il domino? Se non perciano, ne vediamo. Sì. 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 Va bene. Va bene. Andando a volta. Amo da. Sì. Sì. Imi go. Coneste? Bene. Cancio il domino? Ah, perfetto. Tovamo. E' Toito. Sì. Allora, siamo a posto. Sì, siamo a posto. Oye, non sentiamo, io ci faccio sabito, che stai la testa da domani. Sì. Non posso ir, non si mi chieda. O come vai? Prego. Sì. 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 Mi sta venendo. Madonna, ma che verde. Tu potresti. Ma. Signor. Vi ha sapenti che io non ho mai la parermonica però. È truccato? Eh. Speriamo che non mi è truccato. Vediamo di no. Vediamo di no. Eh? Così? Forza, forza. Che chiamo di spessare il ca. Se, come? Che chiamo di spessare il ca. Prima d'arriva non c'è mai di cadina non c'è mai un vestito per vedere l'anzia però ti fissassi un piccino a te, a te la mia stagione è vicino è la stagione che c'è quando è ammazzata, quando c'è da qui tutto è buono ma basta, è tranquillo prima d'arriva, ti fichiamo un po' a qualsiasi guarda i fustetti io perché arrivo l'uomo e ora vediamo con lei sempre la cadina A partire a parte erano ah va però no a as a Grazie a tutti. 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 Certo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.